La Durango 95 filava molto carasciù, con piacevoli vibrazioni trasmesse al basso intestino. Ben presto alberi e buio, fratelli. Vero buio di campagna. Vero buio di campagna. Vero buio di campagna. Folleggiamo alquanto con altri viaggiatori della notte da autentici sbarazzini della strada. Poi decidemmo che era ora di eseguire il numero visita a sorpresa. Un po' di vita, qualche risata e una scorpacciata di ultraviolenza. Grazie a tutti.